La Lega non parteciperà alla fiducia e non per rivendicare poltrone, ma per rappresentare il popolo. Togliete questo scintione, lo striscione, toglietelo, intervengano gli assistenti parlamentari, non mi costringete a sospendere la società, toglietelo. La sovranità appartiene al popolo, non alla segreteria del Partito Democratico, né tantomeno a Renzi. Grazie.